Le ho detto che mio figlio non faceva uso di cocaina. I drogati non sono famosi per la loro onestà. Mi devi credere. Signor Weathers, sono certa che ha ragione, ma dobbiamo essere scrupolosi. Suo figlio ha mai fumato marijuana? Lui era un atleta. Si prendeva molta cura di sé. Faccia piano! Steve amava quella roba! Mi dispiace, abbiamo poco tempo. Credo che stia per buttarci fuori. No. Suo figlio è morto e questo avrà un senso solo se curiamo i suoi polmoni e li trapiantiamo pur di trovare qualcosa, non importa se si imbestialisce. Quindi torna di là, fallo imbestialire e trova qualcosa. Conosce qualcuno dei ragazzi che erano alla festa insieme a suo figlio? Erano i suoi compagni del liceo, fissati col poker. Avevano deciso di giocare tutta la notte da Brandon Broom nella sua cantina. Ehi! Capisco che noi abbiamo fretta e che probabilmente non ci caccerà via, ma forse dovrebbe. Suo figlio non porta gli occhiali in nessuna foto. Li aveva solo da un paio di settimane. Perché aveva mal di testa? Risponda prima di andare alla porta. Sì, per quello. Ha ragione. Non si faceva di cocaina. Aveva un tumore al cervello. Cosa? Lasci stare. È per me. A quanto pare li controllano questi monitor. Cosa? 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 Grazie a tutti